Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, oggi siamo su Tactical Troops Anthracite Shift, ringrazio ancora una volta la Slytherin, il distributore di questo titolo per aver ancora una volta avuto fiducia in me e avermi mandato il gioco da provare, da farci un video. Il gioco lo trovo assolutamente interessante perché riprende delle meccaniche un po' a turni alla XCOM, ma con alcune meccaniche nuove e interessanti, con un visuale dall'alto. Ma lo andiamo a vedere subito, lo iniziamo magari possibilmente da capo, così vi faccio vedere, scegliamo un personaggio che si può distinguere, prendiamo questo, lo facciamo facile così almeno non andiamo a India, no facciamo Indie 2 perché ho già l'altra partita. Il gioco è diviso diciamo in una mappa del genere dove noi andiamo pian piano a muoverci verso le nuove zone, c'è tutto un background, una storia da giocare, che io vi salterò insomma, e dobbiamo raggiungere il punto di controllo, possiamo scegliere la nostra squadra, che al momento è composta da un solo uomo, l'arma che equipaggia, l'arma secondaria e una serie di potenziamenti, diciamo di oggetti da portare. Al momento abbiamo solo uno, ma ci fungerà un pochino da tutorial per vedere un pochino quello che succede. Ci viene presentato Keplert 186, in sistema di Keplert, una nana rossa nella costellazione del Cigno. Vi salto tutto e vi faccio vedere subito in che cosa consiste questo titolo. Allora, praticamente ci vengono mostrati due cerchi. Il cerchio più... allora, stiamo di fronte alle classiche due azioni che possiamo fare, il movimento e l'attacco. Se ci muoviamo fino più denso di colore, più intenso, possiamo ancora sparare. In caso contrario, no. Si tiene premuto col tasto sinistro del mouse, vedete che lo meno si muove, come volete voi. Finché tenete premuto, più lui si muove. Quando finiamo il turno, il gioco ci fa già passare il turno da solo, quando finiamo i punti, diciamo, a movimento, i punti totali. Vedete che questa barra qua, quei punti che vedete qua, in basso a sinistra, sono 75 che si muovono. Nel momento in cui incontreremo un nemico, la storia cambierà, infatti. Lui si chiede che cos'è questo suono e arrivano i primi nemici. Con i primi nemici abbiamo il tasto destro con cui possiamo sparare in due modi. Cliccando, tenendo premuto. Cliccando, il colpo risulta può essere più preciso. Mentre l'altro, diciamo, che scatena più colpi. Alcuni però andranno a vuoto. Dipende un attimino. Vediamo un attimino. Proviamo un colpo singolo e un colpo multiplo. Ok. Turno del nemico. Abbiamo concluso, quindi ci muoviamo. Il nemico è ovviamente morto. Torno del nemico. Vediamo, dovremmo trovarne un altro. Ok. Ricorda di ricaricare. Ok, infatti premiamo il tasto di ricarica e ricarichiamo. Infatti ci possiamo muovere meno adesso. Dovrebbe esserci un altro nemico qui. Sì, infatti, dovrebbe saltare fuori ora. Due, anzi. Tre. Vediamo quanti ne colpiamo sparando in mezzo, sparando multiplo. Vedete che si fa un bel danno. Un bel danno. Andiamo a prendere la cassa che contiene equipaggiamento. Quindi la prendiamo e poi passiamo il turno e ci appropriamo a raggiungere l'area di estrazione. Abbiamo speso pochissimo tempo. Abbiamo ucciso quattro. Non abbiamo subito danni. Ne abbiamo soltanto fatti. Abbiamo sbloccato, trovato più che altro, un'armatura. Abbiamo sbloccato un'armatura. L'armatura provvede a dati resistenza aggiuntiva, ma rallenterà un pochino le tue unità. Iniziamo con la missione 2. Trova gli item persi. Continuiamo. Non abbiamo altre truppe, non abbiamo altre armi, però ci vedete che ci viene equipaggiata l'armatura. Dovremmo muoverci, appunto, come già detto, più lentamente. Attivare l'overwatch. Premi il bottone dell'overwatch. Praticamente si seleziona una direzione e praticamente se i nemici rimangono noi possiamo in pratica sparare in automatico. È la classica modalità overwatch. Ci muoviamo. Allora, puoi... Sì, con la rotella del mouse, W-A-A-S-D. Ci muoviamo, va bene. Ok, andiamo avanti. Niente, nessuno si muove. Io direi di provare la modalità... No, non possiamo. Non possiamo la modalità overwatch. Allora, adesso. I nemici si stanno muovendo abbastanza lentamente. infatti ci sta mettendo un po' il gioco a elaborare il turno. Infatti li vedo lì in penombra. Adesso proviamo l'overwatch. Di qua... È un po' sprecata. Però vedete che si muove lì? Però non spara, perché? Dobbiamo muovarci un po' di più. Ok, mi metto in overwatch in questa direzione qua. Perfetto. Selezionata. Vediamo ora se qualcuno si avvicina. Infatti abbiamo sparato per conto nostro e anche grazie a... Uh, questo è fuori dal nostro campo visivo, quindi a questo punto dovremmo arrangiarci noi. Ora abbiamo, vedete, questo cerchio. Io ho caricato e ora mi posso muovere meno, perché ho speso punti. Ok, ne ho ucciso un altro. È molto interessante, soprattutto diventerà interessante quando gestiremo più persone. Eh, mannaggia. Mannaggia, faccio un passettino indietro, perché quelli lì potrebbero farmi molto male. Eh, infatti mi stanno già sparando. Scusami, adesso spara questo. Perfetto. Andiamo. Turno dal nemico. Andiamo avanti. Eh, sembra un magazzino abbandonato. Dovrei controllare se c'è qualcosa di valore all'interno. Perfetto. Sì, poi è sempre tutto comunque a turno, anche quando non abbiamo nemici a portata di sparo. Eh, infatti... È un po' forse frustrante questo aspetto qui. Comunque, abbiamo eliminato i nemici. Dobbiamo anche caricare. Il rischio ora è, ci muoviamo di più il prossimo turno o carichiamo? Io direi di caricare, perché vedo dei nemici lì fuori, quindi... Lì c'è già una cassa che possiamo recuperare. Carico. Sparo un singolo. Non ha neanche sparato... Cioè, mi ha consumato il turno sparando soltanto due colpi. Quindi un punto per azione che potevo fare. Però adesso sono stato molto più efficace. Niente, bellissimo. L'interno fatto così mi fa impazzire. Perché mi ricorda tanto i giochi... Mi ricorda tanto Star Quest. Ok. Ho sparato due colpi. Ha recuperato una cassa. Ora, sono due le casse che dobbiamo recuperare. La seconda la vedo là in alto, quindi poi dovremo trovare il punto di estrazione. Ok. I turni dei nemici sono sempre più veloci, quindi credo che si stia andando verso la fine. Però lì... Corpi morti non ci sono identificativi, non c'è nulla. La scritta è un po' veloce, però insomma c'è qualcosa di inquietante nella zona. Così mi viene detto. Intanto dovrebbe essere arrivata una notifica perché qualcuno dovrebbe essersi iscritto a... A Twitch. Anche se sto registrando c'è questo counter. Potete sentire. E ringrazio tutti. Ok. Bene. Quelli sono grossi però. Non ho altre armi, ma vabbè. Vediamo se ce la facciamo. No. Direi che passo il turno. Ricarico. No. Passo il turno. Passo il turno. Non uso la modalità Overwatch. E avrei dovuto perché forse... Uh, si sono colpiti tra di loro. Questo è veramente uno spettacolo. Passa il turno. Il prossimo turno lo devo caricare per forza. Questo mi spara, mi colpisce. Però mi sta consumando, vedete, l'armatura. Ora. Ok, dai. Non c'è bisogno neanche che ricarico. Ok, andiamo, dai. I nemici hanno finito, quindi adesso raggiungiamo il punto di uscita. Ok, abbiamo fatto 450 danni. Abbiamo ucciso 12 alieni. Abbiamo recuperato un'armatura e un fucile in più. Ora, vedete, sì. Non mi ha mai fatto impazzire, vi dico la verità. Questa progressione è un po' alla mobile game. Però. Recupera. Raggiungi il punto di controllo. Incontrati con Frank. E va bene, andiamo avanti. Mi incontrerò con Frank. Ho due armi. Ora ci verrà spiegato come usarne due. La selezioniamo da qui, insomma. È molto difficile. Allora, si possono andare in due direzioni. Su o di là. Io adesso... Salve, eh. Allora. C'è... Si è aperta questa console fastidiosissima di sviluppo. Che dovrebbe essere un bug. Comunque. E quindi... Finisce il turno. Oh. Oh, 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 oh. Dovrei aver aperto... La chiudo subito. È una console proprio di... Errori di Unity. Perfetto. Perfetto. Allora, questo tizio qui io posso controllarlo? Ma scusami. Adesso io voglio tornare da lui perché voglio capire. Ma ci possiamo comunicare? No. Ah, ok. Uno, due. Ah, ok. Già due persone abbiamo qua. Ok, qua parlano per contro loro. Adesso io non voglio spoilerarvi nulla. E... Dall'altro non vorrei... Ok. Allora, ci muoviamo. Vedete che qua abbiamo la barra della vita, la barra dell'armatura e la barra di punti azione. Quindi adesso prendiamo lui e mandiamolo a difendere la zona qui. Lo mando in Overwatch, se posso. In questa direzione qui. Così. No? No, non piace. Non piace. Non piace così. Vabbè. Allora, non ho capito perché... Ok. Dai. Dai che facciamo una cosa interessante adesso. Ok. Eh, ci mettono un po', eh. Quindi mi sa che... Ai, 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 ai. Posso anche scegliere questa cosa qui. Ah, ok. No, è la missione. Ok, perfetto. La recupera. Va bene. Ci sta mettendo un po', in effetti. Boh. A fare... A svolgere questo turno un nemico. Ok. È il nostro turno. Spariamo. Ok. Tu, invece. Voglio provare l'arma di là. No. 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 Mi muovo qui. Abbiamo finito il turno. No. Mi posso ancora muovere io. Perfetto, dai. I nemici anche di là. Quindi bisogna... Bisogna essere... Giocare bene l'overwatch. Lo trovo veramente carino. Il fatto che comunque non si clicca e cammina, ma dobbiamo proprio muoverci noi come un gioco, diciamo, con visuale dall'alto. E... È molto interessante. Forse in italiano sarebbe ancora meglio, eh. Vi dico la verità. Però, per quello che c'è da leggere, va benissimo. Tra l'altro, la persona che comunque mi propone questi giochi è italiana. Però, gli sviluppatori non lo sono. Allora, voglio provare con questo. Voglio sparargli. Eh, cavolo, questo qua fa danno. Si può ancora muovere lui. Quindi io lo metto, no. L'overwatch no. Lo muovo di qua. Poi, prendo l'altra persona. Pensavo che anche col tab funzionasse. Invece no. Ok, tu spari col nuovo fucile. Vediamo cosa mi combini. Bene. Bene. Ok. Dovremmo tenere d'occhio le due aree. Quindi qua, vedete, possiamo impostare che uno di loro guarda in una direzione sparsa da qualcuno, l'altro guarda dall'altra. Ma, a sto punto, non lo so. A sto punto, vediamo. Ok. Tu, cioè tu, uccidi questo. Ok. Poi, già che ci sei, dai una mano anche lì. No. Vabbè. Tu, dato che lì c'è qualcosa. No, scusami. Tu. Dato che lì c'è qualcosa. Potresti sparargli, grazie. Eh no, è una roccia. Mannaggia. Fortunatamente non è a tempo, però, credo, però ci sono già arrivati sotto. Sì, è veramente tediosa questa cosa dell'attendere il turno nemico, eh. Si vede che proprio o l'intelligenza artificiale ha una, diciamo, un'intelligenza pazzesca, quindi deve essere elaborato, o magari siamo di fronte magari a un qualcosina ancora da perfezionare. Allora, tu spara lì. Ok, bravo. Riprendi l'altra che mi piaceva di più. Muoviti di là. Tu non... Ok, dobbiamo andare di là. Anzi, fai una cosa. Fai un passettino ancora. E possiamo fare un'altra azione, quindi gli piazziamo l'overwatch qui. Eh, eh, me lo piazzi lì l'overwatch o no? Eh, eh, devi piazzarlo lì. Eh, non me lo piazza più. Non so perché, ma vabbè. Vabbè, lascia stare. Vabbè. Passa il turno. Te devo dire. Cioè, non funziona. Boh. Ok, dai, 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 dai. Non so dove dobbiamo andare, ma... Ah, eh, su lì in alto, ok, la fine del turno. La fine della missione. Allora, adesso... Ho ingrandito un po' troppo. Allora, fai un passettin di qua. E mettiti in overwatch. Di là. Eh, eh, sì, così. Ma, scusa. Vabbè, non vuoi farlo. E non farlo. Perfetto. Bene. Tu, invece, vieni. Di qua. Ok. Non spara da nessuna parte. Finisci il turno. Sì, queste frecce qua ci danno la direzione dove andare. Però, vabbè, secondo me si potevano anche togliere. Magari fa parte della difficoltà semplice. Non lo so. Mi ricorda anche un film, questo gioco, ma... Starship Troopers. Eccolo lì. L'ho detto. Dai, proviamo il colpo singolo. Vandaggia. Vandaggia. Ok, lui è finito. Vieni qua anche tu. E mettiti in Overwatch. Finisci il turno. Cioè, o dobbiamo piazzarlo così e agisce da solo l'Overwatch, o non ne ho idea. Allora, da quello che ho capito, sti qua, ci possiamo sparare attraverso, eccetto il gambo del fiore. Però... Sono tanti però adesso, eh. Allora, perdona. Vieni qui. Vieni qui. E spara di là. Ok. Poi, tu... Vieni qui. E spara di là. Un colpo solo. Scusa, spara con questo, allora. Perfetto. Sì, devo ancora prendere dimestichezza bene con le armi. Quello lì... Oddio. È andato sottoterra, quindi sbucherà a breve. Infatti, eccolo lì. È un Berker Digger. E ce n'è un altro di là. Vabbè, intanto poniamo subito le fine alle sofferenze di questo tizio qui e ricarichiamo. Tu, intanto che sei sgamato, inizi già ad avanzare. Eccolo lì che è sbucato. Un altro. È un altro. Bene. Puoi sparare. Abbiamo anche questo che cura. Non l'avevo ancora visto prima. Perfetto. Ho sprecato colpi in modo stupido. E tra l'altro... Tra l'altro forse potevo muovere anche l'altro, ma va bene. Eh, questo è un bello sconto. Cioè, almeno, la difficoltà facile si fa sentire. Ultime parole famose, però. Ok. Finito i colpi. Prendi tu. E spara questo. Perfetto. No, non posso metterti in Overwatch. Finiamo lo strutturano. Dai. Sì, direi che... Non ne mancano molti. Visto che stiamo andando avanti molto velocemente. Ok, uno, due. Uno, due, forse anche tre. Quindi spara questo. E spara questo. Ok, non hai più... Oh, ricarica. Puoi sparare ancora? No. Per il prossimo turno. Sì. Tu. Perfetto. Non hai munizioni. No, dai, tieniti questo che... Vieni avanti anche tu che ce ne andiamo. Perché adesso qua l'aria sta diventando un pochino imbarazzante. Sì, direi che abbiamo quasi finito. avanza, 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 avanza qui. Molto bene. E là, che passo che ha fatto? È lui che ci avanza un po' più piano per via dell'armatura, credo. Vieni, vieni. Vieni, vieni. E ce ne andiamo adesso. Ok. Abbiamo trovato un CM400 d'assalto. E avanziamo verso la missione 4, dove bisogna trovare gli altri, quindi gli altri membri della squadra. Infatti, vedete, adesso abbiamo tutti e due, con la possibilità di andare a equipaggiare la squadra con le armature. Una fa il 50 di HP 80, però rallenta del 15 o il 30%. Io li rallento tutti e due. Possiamo personalizzare anche le armi. Al momento, comunque, non abbiamo granché. E non abbiamo nulla ancora a livello di bombe o di altro. Quindi, insomma, questo è il gioco. Questo è la Tactical Troops, Antacete Shifter. Ringrazio ancora Slithering, il distributore, per avermelo fatto avere. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Potete giocarlo, tra l'altro, in Local Hot Sita, quindi uno alla volta davanti al PC. O in online, quindi giocare partite con altre persone al momento. Poi sarà da vedere come il gioco verrà portato avanti. Vi ringrazio ancora per la visione. Non mancate, come al solito, di lasciarmi i commenti qua sotto. E alla prossima. Ciao, ciao!